Lettere di minacce al deputato regionale, sindaco di Montevago, onorevole Margherita Ruolo, tanti gli attestati di solidarietà nei suoi confronti. Agrigento prima tra le città siciliane più green, ma nella graduatoria nazionale perde 14 posizioni rispetto al 2022 e dal 58esimo posto va al 72esimo. Chiesta la revoca della delibera da parte dei consiglieri comunali della democrazia cristiana di Agrigento circa la possibilità di affidare a un'azienda esterna la loro gestione. Il Consiglio Comunale di Favara vota la mozione di sfiducia verso l'assessore dei lavori pubblici Emanuele Schembri. Brizzi dei Nassi in una scuola di Alessandria della Rocca trovati cibi non conformi a quelli previsti nel contratto di fornitura. Goal Collection della non aggiornata del campionato di Serie D, Girone I. Benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale. Apriamo il nostro spazio informativo con le lettere di minaccia, con insulti, arrivati al sindaco di Montevago, onorevole la Rocca Rubolo, direttamente al comune che lei guida tanti gli attestati di solidarietà in arrivo il servizio. Due lettere di insulti e di minacce sono arrivate al sindaco di Montevago e deputato regionale componente della Sesta Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari, l'onorevole Margherita la Rocca Rubolo, lettere che sono arrivate direttamente al palazzo di città. Il sindaco e il deputato dell'Arsa ha presentato denunce alla locale stazione dei carabinieri che hanno già avviato le indagini. Non è la prima volta per l'onorevole Margherita la Rocca Rubolo, già nel febbraio dello scorso anno ricevette sempre al municipio di Montevago una bussa con all'interno due proiettili, un santino della Madonna delle Lacrime e una foto di Papa Francesco con una bimba in braccio. Nei mesi scorsi, vittima di intimidazione, era stato anche il sindaco di Calamonaci, Pellegrino Spinelli. Vicinanza e solidarietà da parte del sindaco di Favara arriva Antonio Palumbo che scrive nella speranza che la magistratura e le forze dell'ordine individuano presto che ha commesso questi gesti spreggevoli. Non posso che rimarcare come troppo spesso i sindaci siano lasciati soli ad affrontare le emergenze, divedendo spesso facile bersaglio dei criminali. Apprendo dalla nota stampa una lettera anonima recapitata all'onorevole Margherita la Rocca Rubolo, deputata dell'Assemblea regionale, e sindaco di Montevago nel condannare con forza il vile gesto che offende altresì un'intera comunità, esprimo solidarietà all'onorevole la Rocca Rubolo che sono certa, nonostante il comprensibile turbamento, andrà avanti con determinazione nel suo impegno a favore dei cittadini di Montevago con il sostegno degli stessi e di tutti i rappresentanti della istituzione. Questo è l'altro attestato di solidarietà diffuso dall'onorevole Rossellina Marchetta, deputato segretario all'Ars. Voglio esprimere solidarietà e massimo sostegno a Margherita la Rocca Rubolo, fattiva deputata regionale, azzurra e soprattutto sindaco di valore del suo comune, Montevago, l'ignobile atto di cui è stata vittima offre la misura della vigliaccheria, di coloro che vorrebbero intimidirla, rafforzando al contrario il valore dell'impegno politico di una straordinaria donna e amica. Rivolgiamo quindi un grande abbraccio a Margherita, alla famiglia, con la conferma della vicinanza umana e politica. Così l'assessore regionale ed esponente di Forza Italia, Marco Falcone. Anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, esprime piena solidarietà e vicinanza all'amica onorevole Margherita la Rocca Rubolo per le lettere diffamatorie e ingiurose che le sono arrivate nel giro di pochi giorni, auspicando che gli autori vengono presso individuati e puniti. Solidarietà all'onorevole Margherita la Rocca Rubolo viene espressa anche dal cartello sociale di Agrigento, da Don Mario Sorce, da Alfonso Buscemi della Cigelle, da Gero Acquisto della Wille e da Manuele Gallo della Cisle. Anche l'onorevole Riccardo Gallo, affermo a nome mio di tutta Forza Italia, Agrigentina, rivolgo un forte abbraccio di solidarietà all'amica Margherita la Rocca Rubolo, rinnovando l'estima e fiducia a proseguire il proprio lavoro nell'interesse delle comunità che rappresenta. Agrigento ancora prima tra le città siciliane nell'annuale classifica delle città più green, stilata da lega ambiente dal sole 24 ore, ma nella gradatoria nazionale rispetto all'anno 22 perde ben 14 posizioni e precipita dal 58esimo posto al 72esimo posto. Agrigento ancora prima tra le città italiane nell'annuale classifica delle città più green, stilata da lega ambiente dal sole 24 ore, ma nella gradatoria nazionale rispetto all'anno 22 perde 14 posizioni e precipita dal 58esimo al 72esimo posto. Il trend negativo continuo è questo ciò che emerge dall'esame della gradatoria che è stata presentata a Roma, scaturita dalle risposte che negli uffici comunali dei 105 comuni capoluogo hanno ritenuto di fornire compilando gli appositi questionari riferiti alle sei aree tematiche, che sono l'aria, l'acqua, i rifiuti, la mobilità, l'ambiente urbano e l'energia, e che servono per l'appunto a misurare le performance ambientali mediante l'analisi ingrociata di 18 indicatori. I punteggi assegnati per ciascun indicatore identificano il tasso di sostenibilità della città reale rispetto a una città ideale. Per quanto riguarda Grigento, andando a esaminare uno per uno i suddetti indicatori, la fotografia è spietata in ordine al consumo di suolo che ci vede collocati nelle ultimissime posizioni, sia che si guardi al dato pro capite, siamo centotresimi, sia spostando l'attenzione all'utilizzo efficiente di questa risorsa, siamo al centesimo posto. Per nulla è incoraggiante la situazione della mobilità urbana, dove Grigento naviga costantemente nelle posizioni di retrovia, relativamente al trasporto pubblico urbano, con un'offerta deficitare e una domanda che inevitabilmente non decolla e finisce per fare il paio con il tasso di motorizzazione privata che si mantiene altissimo, con la presenza di un ridotto numero di zone a traffico limitato e ancora minore di isole pedonali. Il bilanciamento delle criticità è legato quest'anno ai bassi livelli di inquinamento atmosferico e al dato relativo alla raccolta differenziata ai consumi idrici domestici. Vale la pena sottolineare l'aggettivo domestici in quanto la percentuale tra l'acqua immessa in rete e l'acqua effettivamente consumata dall'utenza per usi civili e industriali e agricoli continua a segnare il medesimo risultato immorale di perdite pari quasi al 60%. Circa il verde pubblico si conferma quando già emerso negli anni passati a Grigento si ritrova ad avere una percentuale ottimale come i metri quadrati di aree verde pro capite, collocandosi a ridosso della cosiddetta top ten. Ma se si guarda il numero di alberi presenti la città precipita purtroppo alla novantesima posizione. Una posizione mediana in classifica viene mantenuta per quanto riguarda il solare sugli edifici pubblici, posizione che però non può considerarsi soddisfacente tenuto conto che continuano a essere sopravanzati da città del nord Italia che il sole lo vedono sicuramente molto meno di noi. Il presidente Gucciardo di Lega Ambiente alla luce di questi risultati dichiara negli anni passati a Grigento aveva scalato molte posizioni in classifica che ci facevano essere ottimisti e convinti che ci fosse innescato un'inversione di tendenza duratura ma purtroppo così non è stato e occorre interrogarsi su che cosa è avvenuto. Abbiamo rallentato sulla raccolta differenziata, non abbiamo puntato a migliorare la qualità dei rifiuti da riciclare, non abbiamo messo mano alla vetussa rete idrica nonostante gli annunci. La svendita dei parcheggi deve essere bloccata, questo l'affondo dei consiglieri comunali dell'ADC di Agrigento, Zica Rivitalia, Bongiovie e Spataro nei confronti dell'amministrazione. Abbiamo presentato un atto di indirizzo in consiglio comunale affinché si revochi la delibera di esternalizzazione dei parcheggi. Il servizio continua appassionato il dibattito sulla svendita dei parcheggi pubblici che deve essere bloccata. Oggi intervengono i consiglieri comunali dell'ADC, Zica Rivitalia, Bongiovie e Spataro, affermando come abbiamo presentato un atto di indirizzo in consiglio comunale affinché si revochi la delibera di esternalizzazione dei parcheggi. Con amarezza continuano i quattro consiglieri comunali dell'ADC. Dobbiamo ribadire che l'amministrazione comunale fa sempre gli stessi errori sintomatici di una visione ormai superata della città. L'idea di rendere intera la città a strisce blu e di farlo a tutto vantaggio di un privato è antieconomica e ingiusta, cioè tassiamo i nostri cittadini per fare arricchire un privato che nulla di significativo costruisce per la nostra città né in termini di infrastrutture, di assunzione di personale. In pratica, a fronte di un esiguo investimento di 1.900.000 euro e aumentando le strisce blu dagli attuali 600 stadi a più di 3.000, tra la città di Agrigento e la frazione di San Leone il privato può arrivare a incassare oltre 9 milioni di euro in 20 anni, mentre per il comune si prevede solo un piccolo ristoro di 185.000 euro l'anno. L'idea di affidare questo servizio per i consiglieri comunali della DC per 20 lunghi anni non è irrazionale, soprattutto di fronte a un investimento privato di soli 1.900.000 euro. Sul punto del codice dell'appalto è chiaro, l'alzonte temporale di un progetto di finanza deve essere commisurato ai tempi di ammortamento degli investimenti sostenuti, 20 anni sono troppi, tutto si può ammortizzare in circa 6 anni, l'amministrazione non ne ha tenuto conto. Meglio farebbe l'amministrazione Miccichè a impegnarsi per la redazione di un progetto di finanza che rivaluti l'opera incompiuta, il parcheggio di Piazzale Rosselli o che realizzi i parcheggi di via Giovieri, tra l'altro previsto all'interno del Pums. La tassa di stazionamento si può reggimentare utilizzando le telecamere installate per sanzionare l'abbandono dei rifiuti e con un po' di impegno organizzativo. Certamente non può essere una motivazione valida svendere, esternalizzare un intero servizio di parcheggi solo per la tassa di stazionamento. Questo progetto di finanza, continuano i quattro consiglieri comunali dell'ADC, non è affatto ragionevole, di certo non persegue un interesse pubblico. Questa delibera, per come è stata pensata, va revocata senza sé, senza ma. In Consiglio Comunale sarà una battaglia e l'ADC farà la sua parte. Mancata riapertura della piscina comunale di Villa Seta, uno dei fallimenti più evidenti di chi amministra e non sa farlo. Questa è la nota critica del Codacons di Agrigento. Sulla mancata riapertura della piscina comunale interviene attraverso una nota stampa il Codacons, coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti dei consumatori, che affermano come continuano le barzellette sull'apertura della piscina comunale di Villa Seta. L'assessore al patrimonio, il vice sindaco, il sindaco Miciche, continuano a prendersi gioco degli agrigentini, dimostrando disinteresse e mala gestione del bene comune. Ormai chiusa da anni, la piscina, secondo il Codacons, produce mensilmente un danno economico di almeno 3.000 euro di mancati introiti per le casse comunali e priva degli agrigentini di tutta la provincia di un servizio a volte essenziale, se parliamo di riabilitazione e attività motoria per persone diversamente abili. Cosa c'è dietro alla mancata apertura? Ne hanno inventati di tutti i colori, afferma il Codacons, ma noi li abbiamo sempre scovati, la verità è che loro sono troppo impegnati a gestire e prorogare appalti milionari, anche contro il rispetto delle regole del buon amministratore e a quanto disposto dalle leggi vigenti. Adesso più che mai dite alla città come stanno le cose. L'assessore al patrimonio e la piscina e il patrimonio non esporti, l'assessore trupia, dica alla città cosa sta facendo per ridare un servizio essenziale come la piscina agli utenti. Diteci chi pagherà i danni prodotti alla ditta, chi la gestisce e chi restituirà ai cittadini il servizio di cui li state privando da quando vi siete insediati al comune di Agrigento, 3 anni, producendo solo danni. Questo in sintesi il comunicato stampa del responsabile regionale del Dipartimento Trasparente e Enti Locali del Coda Consigli Agrigento, Giuseppe Di Rosa. E sulla riapertura della piscina comunale arriva anche una nota stampa di Mariamico che afferma «Oggi la piscina è chiusa perché è necessario l'acquisto di una nuova caldaia dal costo tutto sommato irrisorio di circa 60.000 euro. La ditta affidataria, afferma Mariamico, sarebbe pure disponibile all'acquisto ma vuole prima la doverosa proroga del contratto e la necessaria revisione dei prezzi visto l'aumento del costo e delle materie prime. Mariamico chiude il comunicato dicendo «Bisogno riaprire la piscina, senza sé e senza ma. Passiamo dalla politica di Favara. Si inasprisce lo scontro tra l'opposizione consigliare di centro-destra e l'amministrazione del sindaco Palumbo. Ieri è stata presentata e votata una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore ai lavori pubblici. Emanuele Schembri ha seguito per noi i lavori del Consiglio e il collega Giuseppe Moscazio». Si inasprisce lo scontro politico a Favara tra l'opposizione consigliare di centro-destra o comunque una parte di questa e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Palumbo, esponente di spicco di rifondazione comunista. L'ultimo atto è stata la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore Emanuele Schembri, con delega ai lavori pubblici, accusato di inadembienze, inadeguatezze e di diverse criticità registrate negli ambiti di sua competenza. Mozione sintetizzata in sette capi di imputazione e presentata da undici consiglieri comunali d'opposizione. Pitruzzella, Lentini, Indelicato, Virone, Montaperto, Maglio, San Fratello, Cipolla, Dalle Cardillo, Lombardo e Sorce e votata in aula dagli stessi consiglieri con l'esclusione di Sorce assente. Erano quindici consiglieri presenti in aula al momento della votazione. Alcuni hanno preferito uscire prima. Come dicevamo, dieci i favorevoli alla mozione di sfiducia, tre i contrari, Zambito, Cucchiare e Airofarulla e due gli astenuti, nobile e la presidente Mignemi. Il sindaco ha preferito non controbattere in aula anche per una differente visione dello svolgimento dello stesso dibattito, chiedendo di passare a cose più serie. Espressione sicuramente non appropriata che ha aumentato di più il solco tra lui e l'opposizione, con alcuni consiglieri che hanno dichiarato di non volere più partecipare ai lavori d'aula che vedranno all'ordine del giorno punti presentati da questa amministrazione comunale, o comunque fino a quando il sindaco Palumbo non avrà licenziato l'assessore Emanuele Schembri. Ma sentiamo le ragioni dall'una e dall'altra parte nelle interviste al consigliere Alessandro Pituzzella e al sindaco Antonio Palumbo. Noi abbiamo presentato questa mozione perché pensiamo che questo assessorato è un assessorato molto importante per questa città e dopo 20 mesi di amministrazione Palumbo l'assessorato non ha prodotto a nostro avviso dei risultati importanti, sono stati uno smantellamento degli uffici e tecnici come l'ufficio sanatore, i responsabili sono stati spostati e sono stati portati all'ufficio Tari dove a me mi risulta che ci sono più di 9.000 sanatori da fare. Per quanto riguarda la metanizzazione c'è una città devastata e i lavori non sono stati seguiti in maniera corretta, tant'è che in consiglio comunale l'assessore Scrempi parlava che è il RU per Alberta Vene, il quale sostanzialmente non lavora più al comune di Favara, si trova al comune di Agrigento. L'ufficio tecnico ha avuto tutta una serie di dimissioni di dirigenti che non si era mai verificato, quindi siamo convinti che questo assessorato così importante deve essere il volano per la nostra città, deve essere gestito da altre persone che pensiamo più competenti. È chiaro che ovviamente questa mozione di sfiducia non è rivolta all'assessorato ai lavori pubblici, ma è una mozione di sfiducia che vuole mettere alla luce che molte cose non vanno. Ci sono anche molti assessorati silenti, molti assessorati che a nostro avviso non lavorano bene, come per esempio i servizi sociali che fine hanno fatto e altri assessorati, vediamo una città abbandonata a se stessa, il sindaco che parla di cambiamento epocale, ma noi vediamo solamente un peggioramento epocale. Valore enorme, anche perché questa sera penso che sia definitivamente tramondata e sconvitta quell'opposizione muro contro muro che pensa solo a distruggere e a non creare. Su 24 consiglieri comunali, 21 di opposizione, solo in 10 alla fine hanno votato questa sfiducia. Segno che gli altri non condividevano questa impostazione, questa aggressività e il giudizio negativo sul mio assessore che oggettivamente, dati alla mano, possiamo dimostrare tranquillamente l'enorme lavoro che si è fatto anche tra mille difficoltà e lo spiegheremo sicuramente con delle puntate specifiche, con delle relazioni, perché veramente siamo uno dei primi comuni in Sicilia per fonti PNRR e questo sicuramente non può essere un'improvvisazione. C'è un muro contro muro, hanno detto usciremo ogni volta dall'aula e non voteremo più le vostre proposte. Ma in realtà solo i falchi hanno detto questo, cioè quelli che tendono solo di distruggere. Io stasera ho apprezzato tanto l'intervento del primo firmatario, il consigliere Petruzzella, che con i toni pacati ha sicuramente parlato delle sue ragioni. Noi potevamo tranquillamente replicare e smandire quelle che secondo noi non erano esattezze, ma vedete chi vuole utilizzare il consiglio comunale solo per fare cacciara, solo per distogliere l'attenzione dei cittadini sulle cose fatte, trova poco terreno fertile. Sindaco, ci sono altri tre anni ancora di amministrazione. Sì, ma guarda, potevamo tranquillamente rispondere, ma se tu fai una mozione devi spiegare le tue ragioni, non puoi pretendere, sicuramente non si è visto da nessuna parte, di rispondere dopo il sindaco e quindi abbiamo preferito evitare questa inutile polemica e non abbiamo risposto per questo. Che cosa succederà domani? Non c'è un muro contro muro, io ho già sempre dato massima disponibilità a tutti i consiglieri comunali nella collaborazione, nel rispetto dei progetti politici e della differenza che noi abbiamo di impostazione politica, ho sempre aperto le porte a tutti. E il fatto, ripeto, che su 21 di opposizione solo 10 alla fine hanno deciso di votare contro, addirittura uno in meno dei firmatari, la dice lunga sul fatto che gli altri hanno capito benissimo la nostra apertura. Un elicottero militare è caduto a Rimini ribaltandosi nei pressi del locale aeroporto, coinvolto anche l'agrigentino Ivan D'Abbone che è stato definito un vero eroe per come ha affrontato l'atterraggio di emergenza evitando una possibile strage. Un elicottero militare è caduto ribaltandosi in un campo nei pressi dell'aeroporto civile della spreda di Ravenna in fase di atterraggio. I due militari dell'esercito, uno dei quali agrigentino Ivan D'Abbone, sono stati feriti nell'incidente portati all'ospedale Bufalini di Cesena. Il velivolo è un elicottero d'esplorazione scorta a 129 Mangusta assegnato a VII Reggimento Vega. I colleghi militari del VII Reggimento Aviazione dell'esercito Vega di Rimini non hanno alcun dubbio. L'atterraggio di emergenza del Maggiore Ivan D'Abbone, di 51 anni, di agrigento, con l'elicottero finito a pancia in su, in un terreno agricolo distante a poche centinaia di metri dalle strade I-45 e dalla provinciale, è stato provvidenziale ed è stata evitata una vera strage. Per questo il pilota agrigentino, il Maggiore Ivan D'Abbone, è stato definito dai suoi stessi colleghi un eroe. L'incidente è avvenuto ieri verso le ore 15. L'elicottero Mangusta era partito dal Rimini dalla base del VII Reggimento Aviazione. dell'esercito Vega per un volo di addestramento. A bordo c'era il Maggiore D'Abbone di agrigento e un tenente di 36 anni. Altamente probabile che il velico abbia perso potenza cominciando a perdere quota e qui cominciano a venire fuori le qualità del pilota agrigentino, la perizia, la bravura e il coraggio che rischiando la vita ha direttamente il velivolo verso il campo agricolo, evitando così l'impatto in zone vicine molto trafficate o abitualmente attraversate da molte persone. Ieri il Maggiore Ivan D'Abbone ha ricevuto la visita della madre, Ina Calandra, partita da agrigento alla volta di Cesena, dove il figlio è stato ricoverato per numerose fratture, costole e vertebre soprattutto che costringeranno il Maggiore a subire venerdì prossimo un intervento chirurgico. I medici sono ottimisti e Ivan D'Abbone, a parte una lunga degenza, tornerà come prima ed è fuori pericolo. Migliore sorte ha avuto il compagno di volo, tenente di 36 anni, che ha riportato ferite meno gravi ed è stato già dimesso dall'ospedale. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per il reato di lesioni colpose. Una maxitruffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo sul reddito di cittadinanza. Un impiegato è stato arrestato e 93 le persone indagate coinvolte nell'indagine del servizio. Una maxitruffa sul reddito di cittadinanza vede ai domiciliari un impiegato in una partecipata della regione siciliana per istigazione alla corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata. È accusato di avere falsificato la documentazione per fare ottenere il reddito di cittadinanza a decine di famiglie che non ne avrebbero avuto il diritto. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza con la quale il GIP, su richiesta della Procura coordinata da Maurizio De Lucia, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Francesco Tutto lo Mondo, di 47 anni, impiegato in un'azienda partecipata della regione siciliana, indagato per istigazione alla corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Con lo stesso provvedimento sono stati sequestrati il CAF Acli Centro Raccolta Renella, 620 mila euro che per gli altri inquirenti sarebbero profitto dei reati. Il Tutto lo Mondo avrebbe anche cercato di corrompere dipendenti comunali con regali e somme di denaro per tentare di velocizzare l'iter amministrativo per il cambio di domicilio. È necessario ottenere il sussidio. Nell'ambito delle indagini, che vedo l'indagata anche una collega di Tutto lo Mondo, sarebbero state individuate 53 persone indebitamente beneficiari del reddito di cittadinanza che avrebbero percepito, somme non dovute, per circa 620 mila euro. Le indagini sono state condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo. Gruppo Tutela Spesa Pubblica sono scattate dopo la denuncia di un dipendente del Comune di Palermo che avrebbe permesso di accertare la produzione di documenti falsi che servivano per la richiesta del sussidio, dichiarazioni di residenza, dichiarazioni di iscrizione agrafica, ai fini tali, contratti di locazione, tutto inviato telematicamente alle postazioni territoriali dell'anagrafe comunale, deputate a servizio del cambio di domicilio. La necessità di ottenere l'approvazione delle variazioni sarebbe stata funzionale alla creazione dei falsi requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza che erano legati al mancato superamento di specifiche soglie reddituali da parte del Nucleo Familiare e all'assenza di persone condannate per gravi reati. Un blizzi dei Carabinieri Nassi in una scuola di Alessandria della Rocca, si tratta dell'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni, il servizio. Un blizzi dei Carabinieri Nassi in una scuola di Alessandria della Rocca, si tratta dell'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni. Passi serviti agli alunni erano diversi da quelli previsti dal contratto sottoscritto dalla ditta incaricata del servizio Mensa. I Carabinieri, insieme ai militari della compagnia di Sciacca, hanno così effettuato un'ispezione igienico-sanitaria nell'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Alessandria della Rocca. Al termine dell'accertamento, la titolare dell'azienda, una trentenne, è stata denunciata e nei suoi confronti è scattata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. Il comune di Alessandria della Rocca ha emesso nei confronti della ditta un provvedimento di sospensione. L'ispezione è scattata nell'ambito dei controlli disposti in ambito nazionale nelle menze scolastiche. Sono emerse infatti irregolarità nelle condizioni di preparazione dei passi e nella mancata corrispondenza con quanto previsto dal contratto. In particolare, in violazione a quanto sancito, il cibo non sarebbe stato prodotto dalla ditta ma acquistato da terzi. Riscontrata anche l'omessa attuazione delle procedure di autocontrollo previste dall'HCCP. Istituito l'Osservatorio del Mercato del Lavoro presso l'Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, diretto dall'Assessore regionale Nuccio Albano. Nasce in Sicilia l'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro, analizzare le tendenze e i fenomeni relative al mercato del lavoro in Sicilia, fornire supporto alla programmazione delle politiche occupazionali della Regione. Questi gli obiettivi di quanto previsto dall'Osservatorio del Mercato del Lavoro presso l'Assessorato regionale della Famiglia, alle Politiche Sociali e del Lavoro, diretto dall'Assessore Nuccio Albano. Ne fanno parte appunto l'Assessore, dirigenti dei Dipartimenti del Lavoro della Famiglia, delle Politiche Sociali, della Formazione Professionale, il Presidente del Ciappi, i rappresentanti regionali del mondo sindacale, dato reale e universitario. Per la prima volta, ha affermato l'Assessore Nuccio Albano, l'attività di studio e di pianificazione delle politiche formative e l'analisi delle richieste delle imprese in Sicilia avranno una reale sede di confronto. L'Osservatorio determinerà in sinergia con l'Assessorato della Formazione un salto di qualità, orientando così i corsi verso ciò che chiede realmente il mercato del lavoro, soltanto avendo contezza delle esigenze delle imprese, quindi dell'offerta di lavoro, si potrà programmare una formazione specifica e conseguentemente riuscire a incrociarla con la domanda. Attraverso una programmazione mirata può essere annullato il divario sociale ed economico della Sicilia con le aree più avanzate del Paese nel settore dell'occupazione, abbattere il gap di competitività che penalizza le nostre aziende nel mercato libero internazionale. I nostri giovani devono essere adeguatamente formati per poter cogliere le nuove opportunità che il mercato del lavoro offre. Tra gli obiettivi finali dell'Osservatorio è l'attività di rilevazione statistica, la documentazione, la ricerca, lo studio in materia di lavoro, un nuovo organismo, si occuperà di mettere a disposizione dei centri per l'impiego, le informazioni essenziali per facilitare l'ingrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro, quali ad esempio l'evoluzione delle strutture occupazionali, l'analisi della professionalità più ricercate, gli esiti degli inserimenti lavorativi. Dopo l'agenda rossa, mai ritrovata, e quella grigia, spunterebbe anche un'agenda marrone, con all'interno una rubrica telefonica che in 31 anni non è mai stata repertata dagli inquirenti. Nell'ambito delle audizioni in commissione antimafia è stata Lucia Borsellino, figlia del giudice ucciso in via D'Amelio, non solo a svelarne l'esistenza ma anche a consegnare una copia scannerizzata ai parlamentari. Un nuovo colpo di scena dunque nella ricostruzione di uno dei buchi neri della storia recente. Nella borsa di mio padre c'era anche un'agenda marrone che conteneva una rubrica telefonica, dice Lucia Borsellino, un'agenda che ci è stata consegnata senza alcuna repertazione e ne siamo in possesso da 30 anni, senza aver mai saputo che questa agenda non ha mai avuto alcuna attenzione sotto il profilo delle indagini. Per i numeri che non troverete lascio a voi ogni valutazione, ha sottolineato. La Borsellino ha poi parlato dell'agenda rossa, io ho testimoniato personalmente in ordine alla presenza dell'agenda rossa nella borsa perché sono stata testimone oculare dell'utilizzo di quell'agenda da mio padre la mattina del 19 luglio e poi l'agenda rossa era nella borsa con l'agenda marrone, il costume da bagno, le chiavi di casa, le sigarette. Mi sono arrabbiata perché non ci era stata consegnata l'agenda rossa ed ero certa che fosse nella borsa la sparizione della rubrica e i danni al centro di inchieste e processi senza che se ne sia mai venuti a capo. Sono certa che l'ha portata con sé ancora ribadito Lucia Borsellino ed escludo la possibilità che l'abbia lasciata a casa. Nella malaugurata ipotesi l'avesse lasciata a Villa Grazia di Carini, non gli fu dato il tempo di tornare, ancora detto, e in quella casa abbiamo subito un furto in cui è stato messo a soccuadro solo lo studio di mio padre. Lucia Borsellino ha anche ripercorso un episodio avvenuto a febbraio del 1994 quando l'allora moglie di Vincenzo Scarantino andò sotto casa della famiglia di Paolo Borsellino perché voleva parlare con la moglie Agnese Piraino Leto. Abbiamo ricevuto uno squillo al citofono alle 22 circa, racconta la Borsellino. Era la signora Basile che con un gruppo di persone voleva salire a casa nostra per parlare con mia madre. Noi abbiamo visto questa come una incursione poco opportuna tenuto conto anche dell'orario. Il fidanzato dell'epoca di Lucia Borsellino, un poliziotto, che era con loro quella sera, ritene di fare da filtro per tutelare la nostra privacy e non consentì alla signora Basile di salire a casa. Poi su indicazione del questore, che chiamammo perché di lui i miei si fidavano, fece una relazione di servizio e di quella relazione per molto tempo non se ne seppe nulla. Abbiamo scoperto solo in sede di dibattimento del processo Borsellino Quater che non era mai stata assunta agli atti dei processi. Lucia Borsellino ha anche ricordato che dalle poche parole che riuscirono a scambiare con la signora Basile si seppe che voleva riferire a mia madre di maltrattamenti che il marito Scarantino subiva al carcere di Pianosa per essere costretto a parlare. A parlare però è stato anche nuovamente l'avvocato Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino e difensore della famiglia. Dire che la mafia è etero diretta dall'eversione è una follia smentita dai fatti e ha aggiunto Urrina, chi non si fida manco dei suoi deve appaltare a chi che sia le stragi. Se riuscirete a dimostrarmi questa cosa sono il primo a chiedere scusa a tutta Italia, ma su questo voglio essere contrastato e giudicato. La linea alla regia per la pubblicità. La senatrice Masolino visita la chirurgia pediatrica di Taormina, lavorerò affinché non venga chiusa. Sicuramente abbiamo i tempi molto stretti perché la proroga scadrà a fine mese, quindi siamo veramente nella necessità di sollecitare l'intervento del Ministro. Col Ministro andrò a parlare personalmente perché ovviamente il decreto Balduzzi, come sappiamo tutti, non è un decreto che non prevede deroghe, le ha in altre regioni d'Italia, anche in Sicilia per esempio ci sono due centri ustionati invece di uno solo, quindi non possiamo ridurre la questione né a una questione di posti letto né a una questione di una rigida applicazione burocratica, perché qui stiamo parlando della vita di questi bambini, delle famiglie, di eccellenze che si sono formate qui, con una professionalità che ovviamente non può essere dispersa perché a pagarne le spese sarebbero sempre e soltanto i siciliani. Un'autenza che non riguarda soltanto la Sicilia ma anche la Sponda Calabra e anche ovviamente i paesi della fascia nordafricana, ci sono anche dei medici qui che vengono a fare formazione dai paesi extraeuropei, quindi davvero non c'è nessuna ragione per consentire che questo centro chiuda e non ci può in nessun modo abbassare l'assicurazione che possa aprire un centro a Palermo perché non avrebbe la stessa formazione, non avrebbe il tempo di farla e quindi sarebbero comunque persone che poi dovrebbero essere costrette ad andare al di fuori addirittura della Sicilia, da Napoli in su. È evidente che su questi temi ritengo che ci sarà poi un'adesione anche da parte di tutti i miei colleghi parlamentari siciliani, sarà mia cura coinvolgerli in una anche battaglia corale. Me ne faccio interprete sicuramente Paladina in prima persona ma sono una persona sempre molto concreta io nelle mie cose quindi se l'impegno lo prendo sono convinta di poterlo portare avanti. Peraltro questa questione la possiamo anche considerare fra quelle per le quali va combattuto il disagio derivante dall'insularità. La Sicilia è l'isola principale d'Italia, ha delle difficoltà, dei disagi che derivano dall'insularità fra le quali ovviamente anche quello di garantire i centri di eccellenza e non andare a pregiudicare le zone della Sicilia. Quindi è una questione che possiamo articolare sotto vari punti di vista e tutti ci confermano che questo centro non ha motivo di essere chiuso. Senza colori politici? Assolutamente. Per ora come colori politici è un periodo delicato per lei? Le battaglie per le cose giuste non hanno un vestillo di colori politici, va da sé che però chiaramente ogni politico deve scegliere di stare dove le sue battaglie possono avere una voce, dove il suo impegno può diventare cosa concreta, dove la sua voce può avere effettivamente un ascolto. In bocca al lupo ai tantissimi giovani che aspirano a diventare agenti del corpo forestale della regione siciliana è questo l'augurio del governatore Renato Schifani ai circa 20.000 candidati chiamati a sostenere le prove scritte del concorso pubblico per l'assunzione di 46 unità a tempo pieno e indeterminato categoria B. Dopo tanti anni, prosegue Schifani, questa selezione è il primo passo per aumentare il numero di uomini e donne in forza al corpo, oggi decisamente sottodimensionato rispetto alla pianta organica e alle esigenze legate alle molteplici attività da svolgere sul territorio per la salvaguardia dell'ambiente, dei cittadini e delle imprese. Andremo avanti in questa direzione anche grazie alla revisione dell'accordo con lo Stato che ci consentirà di procedere a ulteriori nuove assunzioni. Oggi la Sicilia Volta Pagina, afferma l'assessore al territorio e all'ambiente Elena Pagana, avviando quel processo di rigenerazione del corpo forestale che una visione miope di qualche anno fa aveva drasticamente interrotto, innescando conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Il mio pensiero, prosegue l'assessore, va alle ragazze e ragazzi, non solo siciliani, che hanno raggiunto Catania e Siracusa per sottoporsi alle prove. A tutti in bocca al lupo, anche da parte mia, nella consapevolezza di averli al più presto accanto a noi per fronteggiare le tante emergenze che vedono il corpo forestale in prima linea. Sono circa 20.000 gli aspiranti agenti forestali ammessi alle selezioni, 1.348 gli esclusi. Le prove scritte, che andranno avanti sino a venerdì 27 ottobre, prevedono due sessioni giornaliere e consistono nella risoluzione di un test di 60 quesiti a risposta multipla. I residenti in altre regioni italiane o in paesi esteri, nelle province di Agrigento, Catania e Messina, sostengono la prova al centro fiere Bicocca di Catania, via Passo del Fico, mentre chi risiede nelle province di Palermo, Trapani, Siracusa, Enna, Caltanissette e Ragusa è chiamato a sostenere la selezione al centro fiera del sud di Siracusa. E passiamo allo sport, vediamo ora la sequenza dei gol segnati nell'ultima giornata, la nona del campionato di Serie D Girone I. Il Trapani balza in testa e seguire il Siracusa, le Agrigentine, vedono il Licata al quinto posto, il Canicattia al settimo e l'Akragas fermo al decimo posto. Il Trapani balza, solitario, al comando del Girone I di Serie D, complice anche il riposo del Siracusa. Ottava vittoria consecutiva per i Granata, che spugnano San Cadaldo con la rete inizio ripresa di Mascari. Combattuta per oltre un'ora la sfida tra Canicattia e Bibonese, nel primo tempo alla rete di Ordonez risponde il solito Bonilla, rosso-blu che si riportano avanti con un Raida e che al 94esimo chiudono i conti con Castiglio. Finale thrilling al granillo tra Reggio Calabria e città di Sant'Agata, 1-1 nei primi 45 di gioco con Barilla che risponde a Carrozzo. Al 94esimo il gol di Logrande varrebbe i tre punti per il Sant'Agata, che però commette un'irregolarità nelle sostituzioni degli under. Il club Amaranto ha già presentato ricorso, si attende un risponso che nelle prossime giornate a meno di clamorosi colpi di scena ribalterà il risultato del campo. Entra in zona playoff la nuova Egea d'Irtus, terza vittoria consecutiva per l'11 giallo-rosso che batte il Ragusa nella ripresa con le rete di Canizzaro e Logo. Medesimo risultato che permette alla Mezzia Terme di invertire la rotta e battere in Licata. Un gol per tempo quelli di Diaz e Palermo per la prima vittoria di Marra alla guida dei Lamedini. Di misura il successo è la Cireale che ha in casa ben altra media di punti. Il gol vittoria porta alla firma di Giorgio Cicirello. Sorridere ha il Casanuovo che prevale sull'Acragas. Apre le marcature Reginaldo dagli 11 metri nella ripresa il 2-0 di Carnevale. Agrigentini che provano a rientrare in partita con Grillo, ma nel finale Doro e Trombino fissano il risultato sul 3-2. Seconda affermazione consecutiva per il Portici che si impone sul campo del San Luca. L'eredi di Schiavi e Maione tra le file azzurre per il San Luca non basta Tourette. Chiudiamo la nostra goal collection con il pareggio tra Logri e Castrovillari. Due gol di vantaggio vengono sciupati dall'Ogri che prova a scappare con Morrone e Diacatè. Il Castrovillari ha l'orgoglio per puntare al primo punto in casa con i gol di Cosenza e in pieno recupero di Romeo. Salutiamo le emozioni di questa non aggiornata che evidenzia ulteriormente la fuga del terzetto in vetta e il grande equilibrio che regna in tutto il raggruppamento a lunedì prossimo per una nuova goal collection. E questo è tutto per oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.